ecco finalmente i sedili montati sedili alfa mito su fiat 600 sono da pulire perché però sono messi abbastanza bene poi farò un video che lo pulirò lui se vuole sapere le staff sono stata adattate con dei tubulari presi dalle one merlin non mette più fuoco l'unica pecca che non mette più a fuoco che porta bagagni non riesco a farlo o mince in grado qualche modo per il filo o per resto eccolo qua hanno anche il ribaltabile qua e addirittura si regola in altezza con questo altezza giù e giù faccio vedere l'altra parte